E allora, veniamo di parlare di sanità e con noi c'è Daniele Passanisi, il segretario regionale della CISL FP. Sbaglio? Ho detto bene. Ho detto bene. Ho detto bene. Allora, segretario, voi avete mandato un comunicato in cui si parla di sanità, quindi siete impegnati in questo settore. Chiedete qualcosa, cosa per la sanità siciliana? Ma chiediamo naturalmente di essere presi in considerazione per quello che riguarda la rete ospedaliera, perché è un tema caldo, perché l'assessorata alla salute sta cercando di mettere insieme, di definire quella che è la rete ospedaliera, utile per poi poter erogare in modo adeguato i servizi sanitari a tutti i cittadini. Quindi, diciamo, essere sul pezzo naturalmente per poter definire tutto. E' chiaro che ancora questa rete ospedaliera non è uscita in fase di discussione, però, insomma, essere sul pezzo e avere conoscenza dello stato dell'arte per noi è fondamentale. Segretario, una cosa, io sono del vecchio stampo, no? Da noi c'erano gli ospedali, ora ci sono casse di comunità, incontro, tutte queste cose hanno un senso? O era bello una volta c'era l'ospedale e si sapeva cosa c'era? Ma hanno un senso nel momento in cui funzionano adeguatamente, considerando che sono delle direttive, perché fanno parte del PNRR, sono delle direttive di livello europeo, che poi non fanno altro che andare nella direzione della legge 5 del 2009, dove si cercava di potenziare appunto il territorio piuttosto che l'ospedale, e quindi decongestionare soprattutto i pronti soccorso. È chiaro che se si va verso la direzione di costruire case di comunità, ospedale di comunità o piuttosto che delle cot, senza poi mettere il personale adeguato, si rischia di costruire cattedrali nel deserto. Quindi appunto l'attenzione deve essere massima, affinché poi queste strutture devono essere adeguatamente ricoperte. È chiaro che non è possibile ricoprirle con il personale attualmente in servizio, perché la coperta è corta, è logico, quindi si rischia di toglierli dal reparto e metterli appunto in queste strutture. Ecco perché noi chiediamo sin da subito che si ragioni affinché si possa fare un piano straordinario di assunzioni mirato appunto a questo, e quindi la ridistribuzione del personale in modo tale che si possano non solo offrire servizi di qualità, ma anche far lavorare in modo più tranquillo gli operatori sanitari. Ecco, abbiamo sentito di questa notizia importante che viene abolito il famoso test per i medici, ma voi parlate più di infermieri o mi sbaglio? Anche lì ci vuole una professionalità. Come si scelgono gli infermieri? Come si formano? Sì, intanto la nostra federazione si occupa del comparto, quindi degli infermieri, degli OSS, piuttosto che dei declici di radiologia e quant'altro. Gli infermieri come si formano? Ormai gli infermieri non devono essere considerati più come il vecchio stampo, ma sono dei professionisti a tutti gli effetti perché seguono un percorso di studi che porta poi alla laurea appunto. Perché c'è questa laurea di scienze infermieristiche. Ma ecco, questi iscritti sono sufficienti, bisogna fare qualcosa in più. Il futuro come sarà? Sì, ma infatti è necessario che ci sia più linfa da mettere in campo proprio perché è necessario che si facciano nuove assunzioni perché le corsie sono desette non solo di medici ma anche di infermieri. Cronaca di tutti i giorni, gli assalti che vengono fatte soprattutto nei pronto soccorso contro gli operatori sanitari che svolgono il proprio lavoro in modo professionale, cercando di salvare anche la vita della gente e poi di contro hanno, diciamo, le aggressioni, subiscono le aggressioni di parenti che magari anche loro da considerare, diciamo, da prendere la nostra considerazione. Possiamo renderci conto del dramma del parente, però deve capire che gli infermieri lavorano. Senatario, una domanda. Ma è una questione di soldi? Cioè, la sanità ha bisogno di più soldi o no? È chiaro che c'è bisogno di più soldi. L'investimento deve essere quello di andare appunto verso un potenziamento del personale. Non possiamo subire, come è stato fatto nel passato, tagli lineari al personale. La sanità non deve essere considerata come un'azienda, ma ha una mission totalmente diversa che è quello di garantire la salute a tutti i cittadini. Quindi, sì, va bene eliminare gli sprechi, questo sicuramente sì, ma non possiamo eliminare e tagliare sul personale. È illogico. Benissimo. Quindi, il prossimo passo, e chiudiamo l'incontro con l'assessore. C'è qualcosa che state facendo su questo? Con l'assessore abbiamo un'interlocuzione, perché siamo stati artefici di un tavolo tecnico circa un mese fa. È chiaro che non possiamo fare dei ragionamenti più specifici se prima non c'era la rete ospedaliera, altrimenti parliamo del nulla. Ecco anche il nostro appello, perché abbiamo sentito anche delle dichiarazioni demagogiche su qualche cosa che non esiste. Non possiamo mettere il carro davanti ai buoi se prima non abbiamo gli strumenti nelle mani e fare poi le analisi adeguate e fare le nostre proposte specifiche per risolvere eventualmente problematiche che per noi sono importanti. Purtroppo questo tema è uno dei più importanti, perché sappiamo come sono i pronto soccorso, sappiamo come sono piene i reparti di medicina, gli anziani e compagnia belle. Quindi noi speriamo che voi ci mettiate un buon impegno per convincere quelli che devono fare le cose a farle. È giusto? Ma infatti, l'ho detto anche in altre occasioni, la nostra è un lavoro di pressioni nei confronti della politica, ma sapete benissimo che le norme vengono fatte dai politici e le risorse necessarie vengono decise dai politici. Le risorse da mettere nei vari bilanci vengono decise dai politici. Noi facciamo le nostre pressioni, è chiaro, e non ci fermeremo qui, denunciamo laddove c'è necessità di denunciare, però se riusciamo in una interlocuzione più schietta e più chiara potremmo dare il nostro contributo per arrivare ad un obiettivo comune che, ribadisco, è quella di garantire la salute a tutti i cittadini. Perfetto, grazie segretario, è stato gentilissimo, grazie. Grazie a voi, grazie, una buona serata, salve.